Siamo a terra, lo hanno fatto capire con tovaglie stese sul suolo pubblico davanti il municipio di Verona, gli esercenti di città e provincia che stamattina hanno manifestato il dissenso profondo per le ultime regole previste dal DPCM che prevede chiusura obbligatoria dalle 18 dei pubblici esercizi. Qualche centinaio i presenti, lavoratori di diverse categorie per chiedere una modifica ed un maggior ascolto di questo e di altri comparti. La rivendicazione primaria è quella di non far colpire esclusivamente il nostro settore. Noi chiediamo fortemente di ritornare ad avere la possibilità di lavorare fino alle ore 23 in quanto i dati in nostro possesso ci dicono che la diffusione del virus non è certo avvenuta per l'attività di ristorazione e di caffè bar. Se si vuole criminalizzare qualche situazione di Amovida che è stata fuori controllo in alcune parti del paese, certo non è successo nel nostro territorio. Chiedere a tante aziende che già hanno dovuto affrontare un lockdown in questa primavera e che hanno avuto la grandissima difficoltà di riuscire a fare un minimo di reddito per sostenere soprattutto la vitalità della propria azienda e per sostenere il comparto lavorativo di tante persone che lavorano in questo settore, gli aiuti che sono stati promessi non sono mai arrivati perché se parliamo di aiuto alle aziende, quelle che noi conosciamo sono arrivati fino a 1200 euro ad azienda e se la politica ritiene che questo sia il ristoro forse non ha mai fatto impresa e quindi c'è un fallimento totale della gestione di questa epidemia. Era un paese che grazie al comportamento dei cittadini italiani era riuscito a superare quello che erano i numeri, di infatti eravamo il paese migliore da un punto di vista tecnico anche per il numero dei contagiati. Oggi ci troviamo in una situazione che dalla riapertura delle scuole, dalla riapertura dei trasporti che non è stata assolutamente gestita e del ritorno quindi della vita sociale ci troviamo in una situazione di diffusione ulteriore del virus. Manca completamente anche una politica estra perché quando alcune regioni del nostro territorio vengono definite regioni rosse quindi con grave problematica epidemiologica questo non sta succedendo soprattutto nel Veneto perché la gestione sanitaria sta reggendo e riteniamo che potrà reggere anche nel prossimo futuro se tutti ci comportiamo in una determinata maniera. Noi come azienda ci siamo comportati con tutti i criteri e tutti gli indirizzi che ci sono arrivati dai vari DPCM. Abbiamo investito e di conseguenza oggi pensare di dover esclusivamente chiudere non siamo assolutamente d'accordo. Quanti sono gli impiegati lavoratori in questo settore? Guardi nel terziario solo nella provincia di Verona abbiamo più di 50.000 aziende iscritte. Se il numero dei dipendenti medi va da 5 a 8 faccia lei la moltiplicazione e sono numeri estremamente importanti. Questi sono gli addetti diretti. Gli addetti indiretti che sono tutti quelli che poi lavorano per le nostre aziende che vanno dall'artigianato che vanno anche dalle aziende che fanno attività di marketing il numero è impressionante. Siamo qua per dire che i pubblici esercizi che sono una delle filiere più importanti dei mercati specialmente in città come Verona ma come tutta Italia nella filiera del turismo non riusciamo a capire visto che siamo ad esempio le aziende che abbiamo seguito tutti i protocolli di intesa per la sicurezza non capiamo come mai ci sia una chiusura alle 18 visto che noi manteniamo le distanze abbiamo a nostre spese messo tutte le nostre aziende in sicurezza e in più anche pensiamo che già dopo il lockdown in una situazione dove già il mercato in Italia aveva perso 27 miliardi di indotto su 96 questa situazione solo dalle 18 porterà un alto 2 miliardi 1 di perdita ma non è solo una perdita delle aziende che siamo ormai veramente come vogliamo dire oggi siamo a terra il problema è che noi abbiamo anche il pensiero di tutti i nostri dipendenti che dobbiamo pensare che tutte le famiglie che lavorano nelle nostre aziende che da domani noi dovremmo metterle in cassa integrazione che è già stato fatto quindi questa situazione veramente porterà 600 mila famiglie in tutta Italia senza avere un posto di lavoro quindi una situazione veramente critica. Quali sono intanto i numeri della ristorazione qui a Verona? I numeri della ristorazione siamo sui 700 qua in centro abbiamo 700 ambienti 700 ristoratori tra ristoratori pizzerie siamo sui 2000 con il bar bar eccetera tutti i nostri commercianti siamo su più di 2500 Sicuramente volete tutelare la salute dei cittadini ma anche poter lavorare e com'è la situazione attuale? La situazione è abbastanza triste in quanto che siamo molto molto in ribasso adesso adesso non c'è gente la gente ha paura e siamo molto in difficoltà questa non ci voleva perché è una chiusura secondo me insensata anche perché non ci sono i parametri nessuno ci ha detto che nel ristorante ci sia stato qualcuno ammalato nessuno perciò di conseguenza ci hanno fatto spendere dei soldi per mettere a posto i ristoranti hanno tirato via coperti hanno fatto altre cose abbiamo igienizzato tutto la sicurezza nostra perché prima di tutto viene il nostro cliente e adesso ci chiudono Quanto riguarda questo decreto ristori esatto è un miglioramento cosa vi aspettate da questa decisione del governo? Guardi intanto ieri ci sono state le dichiarazioni del presidente Sangalli che ha definito l'incontro avuto ieri con il presidente Conte come un primo passo attenzione però che noi siamo stanchi delle promesse che poi non si tramutano poi nei fatti perché qua abbiamo ormai un sistema alla grande fratello si fanno tante affermazioni poi vai a vedere sulle gazzette ufficiali non ci sono nemmeno le attività e le modalità attuative dei decreti che vengono annunciati qui siamo in una situazione dove manca l'ossigeno per fare una metafora con i tanti malati che ci possono essere nelle terapie intensive qui l'ossigeno non ce lo stanno dando anzi la scelta che hanno fatto è quello di togliere l'ossigeno in modo tale che tutti noi possiamo morire Quanto può essere importante una liquidità da parte del governo? Questa è una situazione importantissima noi non è che vogliamo dei ristorni veloci devono arrivare subito prima di tutto perché noi vorremmo solamente lavorare però se non ci fanno lavorare questi ristorni qua non possiamo più aspettarli perché se no se dovesse arrivare tardi arriverebbero i ristorni ma non avremo più le aziende quindi qua il governo deve impegnarsi a dare dei ristorni con una quantità adeguata per poter mantenere vive fin quando ci sarà la ripartenza nelle nostre aziende ma questo deve essere immediato Presenti anche altre categorie in estrema difficoltà come quella degli autotrasportatori e dei tassisti che risentono gravemente del calo drastico di gente in circolazione e della mancanza di aiuto dalle istituzioni Qual è la situazione attuale dei taxi a Verona? La situazione in questo momento è di stallo, siamo fermi Purtroppo in questo momento ci mancano tutti i clienti provenienti dal settore turistico le fiere, ci mancano i congressi, ci mancano le grandi aziende ci mancano tutte le persone che lavorano spostandosi per attività quotidianamente quindi ci mancano tutti i pendolari, siamo fermi in questo momento le macchine stanno stazionando sui posteggi ore e ore senza poter svolgere una corsa Quali soluzioni potreste avere per vostra necessità? Abbiamo 177 famiglie che lavorano con questa attività, che si sostengono in questo momento siamo al 20% delle chiamate, al 20% del lavoro rispetto al precedente periodo al pre-covid abbiamo assolutamente bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di sostentamento abbiamo bisogno di aiuti perché non siamo assolutamente in grado di sostenere questa situazione ancora per tanto tempo anzi, purtroppo non ce la facciamo più Diciamo che fondamentalmente le soluzioni sono due se manca il lavoro, se manca l'attività abbiamo bisogno di un contributo economico perché le spese superano di gran lunga quello che sono gli introiti diversamente potremmo integrare il trasporto pubblico quindi potremmo anche noi integrare il trasporto pubblico con i taxi aiutando per evitare l'assembramento il problema è che in questo momento con la sospensione delle scuole e con lo smart working probabilmente questa necessità non ci sarà grazie a tutti